Il convinto nazionale canopoleno di Sassari studia grazie ad Eledda attraverso le immagini. Si è svolto nell'aula magna dell'Istituto Ivia Lunessole l'atto finale del primo concorso artistico dedicato alla grande scrittrice nuorese, vincitrice del premio Nobel per la letteratura nel 1926, che ha coinvolto tutti gli studenti dalla scuola primaria fino ai licei. Il tema proposto era quello del paesaggio e su questo ragazze e ragazzi hanno presentato lavori figurativi che sono stati visionati da un'apposita commissione, composta fra gli altri dall'artista Angelo Maggi e il docente di disegno Franco Spina, che ne ha apprezzato la creatività e originalità di espressione. I ragazzi sono stati invitati a presentare degli elaborati grafici sulla tematica del paesaggio e dell'ambiente, tema tanto cari alla Grazia dell'Eda. I ragazzi hanno presentato questi elaborati che sono stati oggetto di valutazione di un'apposita commissione che ne ha riconosciuto l'altro pregio, l'altro valore e la bellezza e alcuni di questi sono stati addirittura premiati. Noi ci auguriamo di poter riproporre di anno in anno questa bellissima esperienza.